Tesla ha veramente mostrato i muscoli per quanto riguarda la ricarica delle auto elettriche in Nord America. Partiamo dal principio. In Europa, come magari ben saprete, lo standard di ricarica è il CCS Type 2, con alcune auto che montano ancora la ricarica Chadmo. Ma la stragrande maggioranza delle auto montando il CCS Type 2 può ricaricare veramente ovunque. E anche Tesla si è adeguata a questo standard. Ma questo non è successo in America. Dato che in America Tesla è partita molto prima di tutti gli altri a vendere auto elettriche e allo stesso tempo costruire colonnine di ricarica in tutti gli Stati Uniti. Cosa che gli altri non hanno fatto ma si sono affidati ad altre case che costruivano solamente caricatori per le auto elettriche. Prendi tipo i Vigo o Electrify America che in realtà proviene dal contratto che Volkswagen ha fatto dopo lo scandalo del Dieselgate. In Nord America infatti Tesla monta il proprio caricatore, quello piccolino, che sicuramente avrete visto in qualche short o qualche TikTok su internet. Ecco, a questo caricatore uno o due anni fa fu cambiato il nome da Tesla Charger a NAX, ovvero Nord American Charging Standard. E il dubbio già lì sorgeva. Perché chiamare un caricatore che viene utilizzato solamente da una marca, Nord American, ovvero tutto il Nord American Charging Standard, ovvero lo standard di ricarica, quando non è ancora così? Bene, tutto è stato spiegato dopo che Ford prima e in seguito General Motors hanno deciso che nei prossimi anni i propri veicoli usciranno direttamente con la presa NAX, Nord American Charging Standard, direttamente dalla fabbrica. Questo fa vedere quanto Tesla in realtà stia mostrando i muscoli, per far vedere quanto più avanti sia rispetto a tutti gli altri. Inoltre è veramente interessante vedere come queste aziende legacy stiano veramente piegando le ginocchia davanti a un'azienda che fino a pochissimo tempo fa doveva fallire. Solamente perché loro sono rimasti estremamente indietro nelle elettrificazioni del proprio parco auto. Ma questo cosa vuol dire in linea di massima per l'elettrificazione in Nord America? Vuol dire che in seguito questo sarà vero e proprio standard per le auto elettriche. E altre case che producono solamente caricatori di auto elettriche si stanno già adeguando dicendo che i prossimi caricatori che verranno montati monteranno il NAX direttamente. E questo perché Tesla, Ford e General Motors, che sono i tre più grandi automaker produttori di auto elettriche in Nord America, hanno deciso di andare verso quella direzione. Pertanto non c'è più praticamente scelta per nessuno. Anche se c'è da dire che il governo americano ci deve sempre mettere l'ultima parola. E questo infatti viene particolarmente notato quando la Casa Bianca ha deciso che Tesla, per ricevere il sussidio dello Stato per costruire più caricatori, deve per forza avere almeno una ricarica CCS. Questo per fare in modo che le auto che non montano il Nord American Charging Standard possano ricaricare anche lì. E ci può anche stare come idea, se non fosse che parte del contratto che Ford e General Motors hanno fatto comprendeva anche il distribuire degli adattatori per utilizzare il NAX nelle auto che non montano nativamente il NAX. Un altro fattore è che Tesla ha deciso di garantire a Ford e General Motors l'API per le loro applicazioni, ovvero direttamente dall'applicazione di Ford o General Motors si potrà accedere ai caricatori di Tesla. E non come qua in Europa dove per utilizzare un caricatore Tesla devi passare per forza per l'applicazione Tesla. Può sembrare una stupidata ma è quel briciolo di forza che potevano mettere Ford e General Motors per non sembrare veramente dei sottoni. Molti hanno speculato che questa mossa da parte di Tesla di aprire il proprio network e instaurare il Nord American Charging Standard, come appunto lo standard di ricarica in Nord America, possa portare veramente i miliardi a questa azienda. Il che potrebbe anche essere, ma non è quello il punto. Il punto è che quando le auto di Ford e General Motors andranno a ricaricare a una colonnina di ricarica Tesla, sarà praticamente pubblicità gratuita per Tesla, perché ovviamente sarà pieno di Tesla, il caricatore avrà scritto Tesla sopra al caricatore e nel caso si trovassero a discutere, ad avere una conversazione con un altro al supercharger che guida una Tesla, capirebbero molto in fretta le qualità che una Tesla ha rispetto a magari un Ford elettrico o molto di più un'auto di General Motors elettrica. Molti hanno fatto notare inoltre che un Hammer EV riempirebbe praticamente tre stalli di Tesla per ricaricare e ci vorrebbe un'eternità dato che ha una batteria veramente infinita. Se non ricordo male siamo quasi intorno ai 200 kilowattora. Ford con Jim Farley, ovvero il suo amministratore delegato, ha fatto vedere quanto in realtà ci tenga a muoversi più in fretta possibile verso l'elettrificazione e ha fatto vedere anche quali sono i problemi più grandi per questa mossa. E l'ha dimostrato nell'intervista che ha fatto con Robert Llewellyn nel canale di Everything Electric, penso si chiami, dicendo che il problema principale è il software del veicolo. Perché come sono costruiti i veicoli di Ford, che poi in realtà tutti i veicoli dei grandi automaker, è che sono centinaia di piccoli pezzi che necessitano del proprio software. Questo vuol dire che questi centinaia di piccoli pezzi vanno aggiornati ogni volta che si vuole fare un aggiornamento. Ed è per questo che non c'è quel lavoro di over the air update che riesce a fare Tesla, che costruisce praticamente tutto in casa. Questo mi fa pensare che in realtà parte del deal che si è fatto tra Tesla e Ford comprenda anche in un certo modo il sistema software di Tesla, ovvero la UI, per capirci quello che si vede nello schermo di una Tesla. Questo permetterebbe veramente a Ford di muoversi più velocemente e concentrarsi su quello che gli riesce meglio, ovvero costruire auto. E non pensare al software, perché ovviamente dovete pensare che Ford è arrivata fino a questo punto perché costruiva tantissime auto, tantissimi pick-up in realtà stanno andando, fatti per il lavoro. Ma se si vuole aggiornare un veicolo come Tesla fa praticamente ogni mese, a loro viene quasi impossibile perché non si sono mai concentrati su quello. Nel caso invece non dovessero per niente concentrarsi su quello, risparmierebbero probabilmente soldi, perché tantissimo personale in meno, tantissimo tempo risparmierebbero, e potrebbero finalmente creare un veicolo elettrico che sia il massimo che possa essere. Non che voglio dire che il Ford F-150 Lightning sia un cattivo veicolo, anzi. Quello che ho pensato quando l'ho visto al fully charged live è che è un veicolo estremamente grande, veramente enorme, ma che allo stesso tempo è completamente inutile per chi vive in Europa, perché a malapena passerebbe per delle stradine medievali, ma che è stato pensato in modo perfetto per l'America. E dentro è veramente un salotto, è enorme. Ti fa proprio venire quella voglia di averne uno, perché non ci sa mai, magari un giorno devi trasportare qualcosa nel cassone, che è esattamente il motivo per cui gli americani prendono i pickup poi. Quindi l'idea funziona, non funziona in Europa, perché non abbiamo neanche le possibilità, ma funziona. Ma mi sono perso. La seconda è General Motors. Il problema di General Motors è l'amministratrice delegata, ovvero Mary Barra. Mary Barra è amministratrice delegata di General Motors dal 2014 ed ha la nomea di avere un po' la testa dura. Adesso sicuramente è una bravissima persona, però c'è da dire che altri amministratori delegati si sono espressi su questo parere. Mi ricordo di aver letto la biografia di Marchionne, molto interessante oltretutto, la trovate anche su Audible, dove spiegava il testa a testa che c'era tra General Motors e FCA e di come alla fine non si sia fatto niente per un po' la testardaggine di Mary Barra. Ma il problema principale è anche che molte parole sono state dette, veramente pochi fatti sono stati compiuti. General Motors ha dichiarato che costruirà tantissimi veicoli e anche ad un prezzo decente, forse, nei prossimi 7-8 anni. Ha detto che non sarà possibile creare dei veicoli che siano profittevoli intorno ai 30-40 mila dollari fino al 2030, se non oltre. Cosa che Tesla sta già facendo. Infatti con Tesla, grazie anche agli incentivi che sono attivi in America, in alcuni stati si può comprare una Tesla Model 3 per all'incirca 21 mila dollari, meno di una Toyota Camry, che è proprio la versione quasi base delle Toyota. General Motors è anche particolarmente legata al governo americano per la precisione quello democratico e infatti abbiamo questa scena. Ecco, diciamo che non sembra essere proprio la verità. E questo per un semplice motivo, ovvero che durante la crisi che c'è stata 2008-2009 General Motors è fallita ed è stata tirata su con i soldi dei contribuenti. E non vorrei che si sia un po', come dire, appoggiata. Perché se tu sai che sei un'azienda considerata too big to fail, ovvero troppo grande per fallire, sai già che anche nel caso fallissi ci sarà il governo che spenderà miliardi per tirarti fuori da questo casino. E pertanto non farai troppo per cercare di rimanere al passo. Questo vuol dire però che ti tirarai un peso dietro per sempre inutilmente, solamente per tenere dei posti di lavoro, che va benissimo, ma è a spese dei contribuenti, pertanto alla fine cos'è meglio? L'innovazione, il cercare di fare della competizione vera e propria o tirare avanti un'azienda con i sussidi statali praticamente per sempre perché viene considerata too big to fail? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E fatemi sapere qua sotto nei commenti anche cosa ne pensate di questo deal, di questo contratto che si è fatto tra Tesla e General Motors e Ford. Non dimenticatevi inoltre di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!